22 marzo, giornata mondiale dell'acqua. Viva Servizi ha proposto per l'intera giornata dei percorsi formativi presso l'Informa Giovani di Ancona. Attività formative ed informative sul tema del risparmio dell'acqua, del riuso e del rispetto per la preziosa risorsa di cui ancora nel mondo hanno carenza ben 663 milioni di persone. È una giornata molto importante, noi nel nostro piccolo la dedichiamo ai ragazzi, la dedichiamo ai bambini che sono i nostri piccoli opinion leader, sono già bravissimi e preparatissimi, speriamo che siano i veicoli per trasmettere un buon messaggio nelle famiglie e nella loro comunità. Quanto è importante sensibilizzare sul risparmio di acqua? È importantissimo soprattutto sensibilizzare su tutto il lavoro che c'è dietro l'acqua che esce dal rubinetto, sia per condurla dentro le case, sia per riportarla pulita nei corsi d'acqua in mare. Tutti siamo responsabili, tutti dobbiamo fare la nostra parte. Ho letto una recente statistica fatta dalle Orispes che solo una persona su due si sente di farsi carico della questione della scarsità della risorsa idrica. Quindi c'è un disinteresse fortissimo, nonostante da tempo, dal 1992, da quando questo evento è stato istituito, si fa il possibile per richiamare l'attenzione sull'uso responsabile della risorsa idrica. Quindi non bastano investimenti e noi su quello facciamo da sempre la nostra parte con un piano d'ambito da quel 2030 di 500 milioni di euro di interventi, ma serve una sensibilità, una presa in carico reale del problema. Tutti dobbiamo fare i conti con questa questione. I numeri dicono che nel 2025, che è domani, la metà della popolazione mondiale avrà problemi con l'approvvigionamento continuativo di acqua. Quindi è una cosa da cui non possiamo esimerci. Riguarda tutti e tutti dobbiamo fare la nostra parte. 22 marzo, giornata mondiale dell'acqua. Questa mattina accogliamo i ragazzi per spiegare che il cambiamento climatico di cui oggi tanto si parla non coinvolge soltanto l'atmosfera e quindi la temperatura del nostro pianeta, ma anche le risorse idriche che abbiamo a disposizione e che saranno sempre più indispensabili, visto che noi, si spera, saremo sempre di più. Spiegheremo che nel mondo ci sono anche delle riserve importanti di acqua, come per esempio l'Antartide, che raccoglie da solo circa il 90% di tutta l'acqua del pianeta e spiegheremo che però lo scioglimento dei ghiacci polari rischia di far innalzare a tal punto il livello dei mari che questo mare, quindi quest'acqua salata, potrà pian piano, passo dopo passo, andare ad inquinare quelle che sono le nostre falde acquifere, quindi le nostre risorse, i nostri giacimenti di acqua potabile che sono indispensabili a maggior ragione nei luoghi del pianeta in cui quest'acqua è già di per sé scarsa. Recupero di energia e materia dalla frazione organica dei rifiuti e completamento del ciclo virtuoso della differenziata. È stato questo il tema al centro del convegno organizzato all'Istau, Istituto Adriano Olivetti, dove è stato anche firmato un protocollo d'intesa tra lo stesso Istau e Conf Servizi Cispel Marche, che raccoglie 33 aziende di servizi pubblici locali per una totale di più di 3.750 addetti. L'appuntamento in collaborazione anche con Anci Marche è stato coordinato da Antonio Gitto, presidente di Ancon Ambiente. C'è una necessità di impianti in questo Paese che non può essere sottovalutata perché ne va dello sviluppo intanto del Paese, ma poi anche il benessere dei cittadini, perché l'economia circolare funziona anche e soprattutto se ci sono impianti di smaltimento. Quindi qual è una possibile pianificazione anche per le Marche? Per le Marche sull'organico diciamo che qualcosa si è fatto, perché sono impianti di trattamento e impianti di smaltimento. Qualcosa si è fatto perché è già stato autorizzato un impianto per il trattamento dell'organico in provincia di Ancona, se ne sta immaginando anche un altro, a Corinaldo già c'è qualcosa, quindi si sta facendo. Probabilmente è necessario guardare meglio a 360 gradi le esigenze della Regione, perché c'è un'altra parte di Regione che ha delle necessità, e soprattutto bisogna cominciare a essere più laici negli approcci anche rispetto ad altro tipo di impiantistica che non è soltanto quella per il trattamento dell'organico. È stato firmato stamattina un accordo di collaborazione tra la CISPEL e l'Istau, di cui siamo molto contenti perché la CISPEL raggruppa enti e aziende che si occupano di servizi pubblici, acqua, energia, gas, trasporti pubblici, farmacie comunali, il cui impegno è quello di ottimizzare i livelli di gestione e di valorizzare i processi che governano. Quindi, quando ci occupiamo di analisi economiche e di formazione, le due cose si intrecciano. Siamo molto contenti anche di aver ospitato stamattina questo convegno, perché è una traduzione concreta del tema tanto in voga, in cui tutti quanti parliamo che è l'economia circolare, il riuso, organizzare la raccolta differenziata in maniera intelligente. Il convegno di stamattina, al più alto livello di competenza, offre un'analisi molto accurata e anche delle proposte gestionali.